questa si che è una caduta di stile ripresa top Gervasino che è in una kilop arrivo a farci vedere la sua tecnica che è il calco 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 ovvio potete notare la tecnica eccellente e impeccabile eccolo arriva vediamo se ci saluta con stile ci saluta con stile è il calco 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 sta inог 제대로